L'amministrazione comunale Terramana ha avviato una manifestazione di interesse per raccogliere le esigenze di chi risiede e dimora in centro storico per parcheggi riservati in centro nei parcheggi multipiano, così come dei lavoratori pendolari per l'utilizzo dei solo parcheggi multipiano. Vogliamo partire anche con un altro percorso che è una ricerca di interesse da parte dei residenti e dimorandi del centro storico per vedere le loro necessità, quanti ne sono, dove sono, a quale condizioni, per eventuali parcheggi gialli all'interno del centro storico. Questa è una richiesta forte che ci arriva dai cittadini, veniamo fermati per strada quotidianamente con i cittadini che ci rappresentano questa esigenza. Collegandosi al link pubblicato sul sito del comune, gli interessati potranno fornire fino al 15 luglio indicazioni utili per l'amministrazione comunale sulla reale necessità di parcheggi in centro e quindi per le successive azioni da mettere in campo per andare incontro alle esigenze di chi risiede, dimora e lavora in centro storico. In caso di risponso positivo saranno studiati accorgimenti come l'attivazione delle strisce gialle con posti riservati a residenti e autorizzati. Con questa iniziativa, quindi con un link che sarà online a brevissimo, al quale i cittadini possono interagire per fornirci delle informazioni importanti, tramite queste informazioni poi avremo la possibilità di programmare e progettare soluzioni a breve e da poter mettere a terra il prima possibile in modo tale da poter soddisfare anche i residenti del centro storico.